Alghero, nell'ambito dei controlli tesi al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, unitamente i funzionari dell'Agenzia Dogani Monopoli, hanno individuato presso l'aeroporto di Alghero una donna di nazionalità nigeriana in possesso di sostanze stupefacenti, la stessa intercettata nella sala arrivi dell'aeroporto, appena scesa da un volo proveniente da Bologna, alla vista dei militari operanti mostrava evidenti segni di nervosismo. I militari hanno deciso quindi di procedere ad un approfondito controllo grazie all'unità cinofila, la quale segnalava la presenza di sostanze stupefacenti indosso alla donna. I successivi esami clinico-diagnostici hanno consentito di individuare 25 ovuli ingeriti dalla stessa, che sono risultati poi essere 300 grammi circa di eroina, successivamente sottoposti a sequestro. La donna nigeriana è stata quindi tratta in arrezzo per traffico di sostanze stupefacenti e su disposizione del magistrato di turno della procura sassarese è stata immediatamente condotta presso il carcere di Bancali. L'attività ispettiva condotta dai finanzieri della compagnia di Alghero testimonia l'impegno della guerra di finanza che, anche attraverso la repressione degli illeciti traffici di sostanze stupefacenti, oltre a tutelare la salute dei cittadini, combatte uno dei più proficui canali di approvvigionamento di capitali delle organizzazioni criminali, ponendosi quale sicuro punto di riferimento per la collettività.